Rosy! Oh! Rosy! Oh! Ma chi è? So io! Io qui! Eh, sono io, chissà io Ah, ma, sin te? Mi sono sveglia e non è che te lo sposavano, eh? Pari stracca, ma metti a sede, va? Posso metti a sede? Certo, ma... Mamma mia, sono proprio stracca, che fa? Ember! E io? E te? Si stracca pure te? Eh certo, si stracca! Eh, è vero! Qua avrei fatto, dottor? Durava 13, ormai! Durava 13? Sì! Ma quelle tabbricate da zero? La roba ce l'avevamo in casa per farle tutte, ce l'avevamo? Ecco, vedi? Quello che fu io contamellante! Orranno quelle serie! Qua c'è la mia! Ho fame! Ma quando, oggi? Oh! Com'è che oggi? La settimana prossima! Oggi sono una pelota, c'è posto? A me! A me! Certo oggi! Ho fame! Oh, ma tranquillo eh! Oggi? Non si fa bagnare? Ma non è che mi soffre per aver già fatto la spesa! Un bello perché non ti fa bagnare! Comunque va a fare la spesa! Io ti aspetto a me in casa! Armà! Dovremmo andare a fare la spesa, Armà! Va a fare la spesa! Io ti aspetto a me in casa! Io non ci vengo a fare la spesa eh! Eh? Andiamo a fare la spesa! Va a fare la spesa! Mangeremo dopo! E già che ci vieni, Armà? Io non ci volevo venire eh! Incominciare con mangiare tante! E già che ci vieni? Pi anche la macchina! La macchina? Pi anche i soldi, Armà! La macchina! La macchina! Poi i soldi? Io non ci vengo manco gratis, no? Poi ce l'ho anche da pagare! Armà! Quando parli con me? Ah! Sta zitto! E già! L'ho detto! Già! Ce li hai? Via sti soldi! Via sti soldi! Oh! Quanto la piace? Considera! Mamma mia! Io e te! Mamma mia! Una settimana! Comprate un'altra! Ormai che questo è un po' uscito di tanto! Un po' comprevo, no? C'è un po' spesso! Considera! Io per la settimana! 500 euro! Ormai ce le vuole! 500 euro! Ma tu si matano! 500 euro! E tanti per te! 500 euro! Mica! Ti sai i prezzi! Ma manco te li sai i prezzi! Perché 500 euro! E tanti, no? 500 euro! Mi è pieno 700! Manno mio! Te stai sicuri che non bastasse, no? Mamma ma ce l'hai l'euro per carello? L'euro per carello non ce l'ho però eh! Ma mancina lì! Non c'ho un soldo! Per porto 700 euro! Non c'ho un soldo! Ah! Prendi anche la macchina, va? La macchina! La macchina! Non la vedremo! Il negozio sta qui sotto! Ma ci muoce al piede! Mù c'ha bisogno di quella macchina! Dopo perché parchieremo! C'erremo più lontano! E che l'arrivo magari? Armando! C'è la macchina lì! Ma io mù c'ho un giusto sporco! Cosa è? Armando! Va bene così! Ma che ti vuoi mettere? Guarda! Io ho preso due cosette! Ah! Quattro cosette! Ma dai! Non ci vengo! Mi è stato male! Armando! Grazie!